Ho presentato il progetto della biblioteca di Mirandola, biblioteca che sorgerà nell'ex scuola, liceo classico e scuola media, quindi il polo scolastico di Piazza Garevaldi verrà trasformato in biblioteca. È un contenitore che ben si presta all'inserimento di questa nuova funzione e che ha subito dei danni abbastanza diffusi e gravi a seguito del sisma, quindi l'intervento ha riguardato il miglioramento sismico, l'indice viene portato a oltre il 60% come tipicamente si fa per gli edifici storici vincolati e nel contempo viene trasferita la biblioteca. In realtà la biblioteca è uno degli elementi del progetto perché il progetto riguarda la trasformazione di quel comparto edilizio in un polo culturale e quindi ci saranno spazi espositivi, ci sarà una caffetteria, ci saranno sale di lettura, ci sarà una emberoteca, ci sarà una biblioteca dei ragazzi, ci sarà una ludoteca, quindi tanti spazi che trasformeranno quel comparto in un pezzo di città che in questo momento vive una difficoltà in un nuovo polo di attrazione. Questo intervento è oggetto in parte per circa una metà del finanziamento regionale por sisma, il finanziamento regionale copre ciò che è il miglioramento sismico, cioè l'intervento strutturale sulla struttura portante e la riparazione dei danni sugli elementi non strutturali portati dal sisma, però normalmente questi interventi sono anche l'occasione per riqualificare l'edificio, quindi anche nel nostro caso oltre a intervenire strutturalmente abbiamo migliorato l'isolamento termico e abbiamo ristrutturato completamente l'impiantistica adeguandola quindi agli standard contemporanei. Soprattutto in termini di risparmio energetico. Un elemento fondamentale da sottolineare in questo caso è l'allaccio alla rete di terre di riscaldamento che ammirandola sta per essere portata in centro storico e quindi anche nel nostro edificio.